Il quartiere Provvidenza, dopo quattro anni di silenzio, sentirà nuovamente le ruspe in azione per demolire le vecchie abitazioni, nell'ottica della riqualificazione urbana. E proprio del quartiere Provvidenza il sindaco Ruvolo ha parlato in un post sulla sua pagina online e non ha perso occasione per ringraziare la parrocchia e il comitato di quartiere per le diverse attività che in quel quartiere si svolgono, oltre che le forze dell'ordine che garantiscono la sicurezza. L'amministrazione comunale ha scritto, ha programmato una serie di iniziative, ma ci vuole una presenza costante della cittadinanza per sostenere la vita del quartiere. Per questo chiedo alle associazioni, gruppi, club service di sentirsi coinvolti nel riappropriarsi di questo luogo importante della città. Chiedo di programmare iniziative, secondo le peculiarità proprie, per vivere il quartiere e per far sentire la città vicina a chi vive quotidianamente il quartiere. L'amministrazione, conclude Ruvolo, continuerà a tenere alta l'attenzione per il quartiere Provvidenza San Giuseppe, per ultimo con una tappa delle vie dei tesori, che ha portato nel quartiere centinaia di visitatori. Grazie.